Prima volta presenti qui al weekend del camionista edizione 2017 a Misano Adriatico, giusto? Sì, per noi quest'anno previsirà nella prima volta di partecipazione a questo evento, molto bello, molto interessante, sicuramente diverso dalle solite fiere che si vedono in giro. E volevamo senz'altro essere qua per affrontare, incontrare tutti quelli che sono i protagonisti del mondo degli autotrasporti in un contesto con una cornice diversa rispetto ai soliti eventi fieristici, dove appunto ci sono questi meravigliosi camion decorati e ci sono le gare in pista, quindi insomma un modo diverso per approcciare quello che è il nostro mercato potenziale. Ma possiamo dire quindi che gioca a vostra favore il mercato dei pesanti? È un mercato strategico? Sì, il mercato dei pesanti per Visiran è un mercato molto importante. Visiran di fatto è nata per servire mezzi pesanti dieci anni fa quando è deciso di aggredire il mercato della telematica e per noi rimane ancora molto interessante e molto strategico dal momento in cui abbiamo delle soluzioni fondamentali per chi ha mezzi pesanti, come per esempio lo scarico e la gestione del tachigrafo e dei dati tachigrafici in tempo reale da remoto, piuttosto che tutto ciò che riguarda gli allarmi, la sicurezza e la prevenzione dei furti dei camion e anche il recupero dei camion, che è un trend che nel 2016 quello dei furti è stato piuttosto importante. Allora io vi auguro buon lavoro e grazie per questo vostro intervento. Grazie a te, grazie. Grazie a tutti.